Diciamo che il tema del risparmio energetico quest'anno è il tema maggiormente caratterizzante i nuovi prodotti di credo qualsiasi azienda di illuminazione. Nel nostro caso abbiamo veramente portato avanti una lunghissima e interessante ricerca nell'ultimo anno e mezzo proprio per riuscire a combinare il nostro materiale che è un materiale millenario, è un manufatto e quindi ha tutta una serie di caratteristiche intrinseche legate al passato con una sorgente luminosa nuova che è la sorgente dei led e che oltre ad avere una differente resa luminosa, una differente colorazione della luce consente anche al consumatore di ottenere un fortissimo risparmio energetico sul consumo anche domestico. Il tutto naturalmente impone una grande ricerca perché il consumatore deve ottenere comunque una resa luminosa e un effetto del nostro prodotto che sia ugualmente bello a quello che era precedentemente con la vecchia lampadina e di conseguenza abbiamo lavorato tanto proprio per garantire al nostro consumatore questo tipo di soddisfazione. Abbiamo sicuramente nella zona più avanzata dello stand nuovissime forme contemporanee d'avanguardia combinate appunto con luci colorate, led colorati e sistemi RGB mentre qui vicino a me ci sono i nostri vecchissimi disegni veneziani reinterpretati però appunto sia con finiture molto particolari come il platino e l'oro e oltre a ciò abbiamo voluto dare una provocazione utilizzando un disegno veneziano veramente antico e combinando insieme la sorgente luminosa dei led che è la più innovativa con le vecchie candele che si usavano nei palazzi veneziani. Il mercato internazionale ha avuto una fortissima ripresa parlo rispetto al 2009 nell'ultimo trimestre del 2010 e nel primo del 2011 per cui siamo decisamente positivi per questi mercati. Il mercato nazionale soprattutto quello legato al retail fa ancora un po' fatica mentre stiamo lavorando molto bene su progetti navali su progetti di grandi dimensioni tipo università, tipo alberghi e questo tipo di installazione.